Il gank top andava benissimo, quando aveva trollato doveva semplicemente flashare il ryzer game era pretty much, no non era vinto, però aveva preso una buona kill e poi lo resettava e eravamo messi bene, considerando che il ryzer già si era suscitato una volta, vabbè comunque è inutile parlarne, cioè boh, quello lì si è messo a trollare senza motivo, ma sta 0 lp guy, pensa di avere ragione, ma pure se avesse ragione, cosa che non è, ma pure se avesse ragione, cioè uno non mi sembra il caso di fare intention di feeding, vendere item e andare a half dopo il minuto 3, no? 3 e mezzo, 4, quant'era insomma, goh, cioè anche se hai ragione gli altri hanno sbagliato, non lo so la gente cosa ha, c'era il posto del cervellino, mannaggina talvolta, questa è la carriacchiana, eh, good start, good start, va, 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 va Aveva abbastanza rispettato il gun questo tonto di Garen Però poi No ce l'avevo Sennò non flashavo mica Peccato avrei il test pregato ma Va benissimo così Boink Gang top good esatto Ma guarda in realtà non sono giù di morale ti assicuro Sono solo un po' Stanco ora Perché sono le 5 L'ultimo game è stato un po' In realtà Ti ripeto l'ultimo game non è stato prendo tiltante Perché quando trollano così non è tiltante Gang di prima trovato Quello si che era brutto Gang di prima alla fine Boh Embrace lost e va bene così Domani facciamo la grande win streak Palle sto facendo si paga Non c'è Fa un selvatico Garen qui Dove fare tempo a prenderne uno E' brutto però il fatto di non poter far baciare questi cosi con Zack Sì è odiosissimo Magari questo lo potevo smitare a dirla tutta Ma l'issima era bot vero? Non me lo sono sognato guys Mi hai scliccato? Ma se sono uscito dal cespuglio è un disoster Non male tutto a posto Ok we're chilling Andiamo top Potrebbe frizzare Vediamo se può frizzare Se riesco a unicariche Si tiene la wave lì Ideale per me Nice Ma l'ha lasciato scappare la wave si No ha trollato il frizz mannaggia Ah c'è il ping frizz è vero? E' solo che i ping non vengono generalmente frizzati con Non lo vedo il ping frizz veramente Ho fatto l'area di piana Non pensavo la uccidessi E basta Ma la vuoi riuscidere? Per esempio la possiamo riuscidere Eh però devi No Devi fare il cc sul mio cc bro Mmhm Vabbè ok Aveva paura Echina era a bassa di vita Non ci siamo Non ci siamo capiti Cioè alla fine Era una play Che poteva anche evitare Secondo me Poteva funzionare Funzionare tranquillamente Se andavamo insieme Però Non fa niente Alla fine Aveva pure uno shutdown Sulla testa Era spaventato Vabbè così Ovviamente che io Qua cappavo qualcosa Poi ci voleva lei Però se alla fine Non trusti Magari è meglio pingare back Piuttosto che Che fare Le robe così indecise Scampingami back Non facciamo l'azione Basta magari Allora forse Allora forse Grazie a tutti. Ah, stavo tankando. Dai, dai, cardezza, anche io, ma ci dobbiamo riprendere via, easy, easy. Un po' di concentrazione si fa tranquillamente. Un po' di concentrazione. Ok, ma noi siamo molto in partilora. Un po' di concentrazione. Ma vincevamo, tipo, fortissimo vincevamo. Un po' di concentrazione. Un po' di concentrazione. Siamo morti, abbiamo esso 6 ore, a fare su dive si posano qua botta avendo solo 10 milioni di buoni, però abbiamo fatto Siamo semplicemente Perché non si fiume di me, cacchio? Come si stia facendo male, no? Cioè, guarda se devo morire Cioè, con chi ha una Double Kill Torre, Herald Non morivo mai, ma forse non perdevo Meno la passiva, onestamente qua Brutto essere stato abbandonato Alla mia squadra Gesto non carino questo Non ho capito capo, scusate Bello, bello, zack Molto, molto fan da giocare Alla mia squadra Alla mia squadra Ops Ho poco rispetto qua Abbiamo avuto per gli avversari Alla mia squadra Alla mia squadra Grazie Clanger del Gift Grazie Clanger del Gift E dell'11 manca poco Alla mia squadra Alla mia squadra Alla mia squadra Alla mia squadra La segnissima La segnissima Si è fatta acciuffare Eh, la combo di Karen Devo dire Si sente Grazie La play e la play La play è girarci sempre La play è girarci sempre Era un'altra mia squadra Era fanci Era fanci il kick flash di Sinno Sì, sì, era carino I avversari lo sanno, ma non fa niente Sì, sì, era carino Filami, bro Filami, sono stato garennato No, no, l'alti solution, bro, cazzo Poteva farla su quel dio con quelli avanti, no? E... Power Incident Si è dimenticata che la torre... L'ho ucciso io Chi l'ho ucciso io? L'ho ucciso qualcuno io Sarà... Lì andrei immagino Stonks Non credo onestamente Cioè non lo so Forse entrambi ho tp banalmente Chiana pensava l'abbiamo piccata abbastanza alto a sto giro Quindi forse sì Ah, prendi red giusto per... E... 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 ERIPI 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 no 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 aiuto no 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 i windows Non si vuole tanto bene questa Nami. Stiamo prolungando un po' la guolina degli altri. Non si vuole, non si vuole. Ah, qui diamo se stagionano per all'achata. Oh no GG guys Ok I'm done for today Ci becchiamo stasera Forse se stream o uovo Sono direttamente domani boys Fati bravi E vi ringrazio della compagnia Scusatemi se ho giocato un po' male oggi Domani giocherò bene Saliremo easy peasy Vi mando un bacino affettuoso E grazie grazie Della compagnia come sempre